Dekai dono Sì, 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 sì. Sì, che riesco a prendere la protezione. Ah f**k, c'est un suspense absolu. D'une certaine maniera, je devrais me concentrer sur celle là. ... ... ... ... ... Grazie. 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 Si io mi concentro ben intensamente su D4, ho una chance... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...e' questo l'autre è instantanamente, e se io faccio questo, sarebbe tipo Big Brain. ...maximare il poisson... ...6-9... ...e' fa tipo 38... ...ah non! ...dessi, dafoi, io posso... Il resta 11 PV, quindi bisogna assolutamente le tuerlo, altrimenti sono morto. Ok. Non, ma parola. Ma parola, è veramente un pollo. Quindi... Due volte, oh shit. L'ho, l'ho, l'ho! Oh shit, ha dovuto finire il giusto? Penso che finire il giusto. Ej, se tu es ancora parmi noi, penso che finisci il giù. Oh shit. S'espoir che non ho bisogno di l'attaquer, perché non ho capito. Oh shit. J'ai vu ça finis le jeu. Pour la première fois ever, pis c'était en live. Oh shit, pis j'ai enfin débarré le nouveau bonhomme. Wow. Ça, ça c'est fucking fantastique. Malade. Malade. Ça a l'air qu'il fallait que je joue en live pour être capable d'enfin finir le jeu. Wow. Ça fait ma soirée.